Bene, una volta analizzati quali sono i tre sistemi rappresentazionali, quindi il visivo, l'auditivo e il cenestesico, come possono esserci utili nel momento in cui andiamo a sottoporre il nostro progetto al nostro cliente? Se abbiamo ancora poca dimestichezza con l'utilizzo e soprattutto con l'individuazione di questi tre sistemi rappresentazionali, oppure abbiamo avuto poco tempo per poter interagire con il nostro interlocutore, è buona norma di poter utilizzare nella linguistica e quindi nella spiegazione, durante la spiegazione del nostro progetto, termini di tutti e tre i sistemi rappresentazionali, quindi utilizzare termini visivi, termini auditivi e termini cenestesici, quindi lavorando sul discorso del visivo, quindi nel fare immaginare alla persona, al nostro cliente determinate situazioni, nel far sentire alcuni aspetti importanti, come potrebbe essere l'isolamento acustico, come potrebbe essere il sentire musica in un determinato ambiente, oppure il cenestesico, le sensazioni che daranno al nostro cliente l'essere immerso nel progetto realizzato, quindi nel prodotto finito. Un esempio classico potrebbe essere, ad esempio, che può abbinarsi con l'aspetto cenestesico, è quello di un bagno, dove possiamo tranquillamente dire, utilizzare termini, come sarà rilassato, che sensazioni avrà, come riuscirà a prendersi cura di se stesso, quindi tutti aspetti legati alla sensazione dell'individuo. Perché comunicare in modo efficace? Perché comunicare in modo efficace può fare la differenza anche nel tuo business. Ti sei mai chiesto o hai mai notato che qualche tuo collega, pur essendo meno preparato di te, meno competente di te, ha più lavoro di te? Riesce a chiudere contratti che tu non riesci a chiudere? Ecco, questo capita perché avere solo delle buone idee non basta. Bisogna anche saperle comunicare, comunicare in modo efficace e farle comprendere all'interlocutore, soprattutto nel mestiere dell'architetto, dove si parla di un qualcosa che è astratto e si lavora su progetti che l'utente, il potenziale cliente, fa fatica magari ad immaginare perché non ha la stessa preparazione di chi ha progettato, di chi è un architetto. Quindi un'idea da sola non basta. Il tuo collega, quello che non ti spieghi come mai, ha più lavoro di te, pur sapendo che magari è meno competente di te, riesce a comunicare in maniera più persuasiva, più assertiva, a far rimedesimare, a valorizzare la sua idea con il suo potenziale cliente e a fargli comprendere nel suo insieme qual è la realizzazione del suo progetto e che benefici ne trarrà. Potremmo trovarci in situazioni in cui il nostro interlocutore, il nostro cliente non apprezzi il nostro progetto, quindi può ad esempio affermare che il nostro progetto, il progetto realizzato è un disastro. Ecco un piccolo trucchetto per uscire da questo tipo di situazioni è di ristrutturare la frase che riceviamo dall'interlocutore, dal cliente in questo caso e di ritrasmettergliela in forma, in chiave più positiva. Facciamo un esempio pratico. L'esempio potrebbe essere il nostro interlocutore, quando noi sottoponiamo il progetto, ci dice questo progetto è un disastro. Ecco, noi potremmo tranquillamente prendere questa affermazione, questo progetto è un disastro e ribaltargliela in chiave positiva chiedendo o dicendo come mai questo progetto ha qualcosa che non va, focalizzando l'attenzione su qualcosa che non va, quindi eliminando e depotenziando quel disastro trasformandolo appunto in qualcosa che non va. Porre domande di qualità ci può aiutare in situazioni del tipo lei non ha rispettato le indicazioni che le avevo dato. Ecco, in questo caso è fondamentale capire cosa l'interlocutore vuole dire, quindi quale messaggio si cela dietro quel messaggio comunicativo dell'interlocutore. Quindi piuttosto che focalizzarsi sul perché o sul fatto di aver rispettato o meno le indicazioni del cliente, è molto più utile porre una domanda del tipo cosa nello specifico non ho rispettato delle sue indicazioni. Questo ci permetterà di traslare appunto e di focalizzare l'attenzione su un qualcosa di più utile andando appunto a modificare, andando a capire quali sono state magari le nostre omissioni in fase progettuale oppure qual è stata l'incomprensione, se così vogliamo chiamarla tra virgolette, nel spiegare il progetto da parte del cliente. Bene, uno degli aspetti un po' più complicati, diciamo così, dell'installare un rapport è la gestione della nostra comunicazione non verbale. Perché la comunicazione non verbale? Perché è una comunicazione totalmente inconscia, quindi è poco sotto il nostro controllo. Un piccolo trucchetto che può aiutarci ad avere, diciamo, una comunicazione non verbale in linea con quello che è il nostro obiettivo, cioè quello di instaurare rapport con il nostro potenziale cliente, con l'interlocutore, è quello di focalizzarci su un aspetto della persona guardandola, oppure nel suo ufficio, diciamo, guardandoci intorno, su un aspetto che ci piace. Se focalizziamo la nostra attenzione su un aspetto della persona che ci piace, automaticamente la nostra comunicazione non verbale andrà di conseguenza. Quindi la nostra risposta non verbale sarà una risposta più positiva e più, diciamo, di coinvolgimento con la persona con la quale stiamo interagendo. Sappiamo benissimo, può capitare, c'è il cliente che è un po' più fastidioso, ci sta un po' più, tra virgolette, antipatico. E quindi questo trucchetto è molto importante quando andiamo da un cliente dove non c'è, diciamo, un feeling importante, dove non c'è un buon rapport, utilizzare questa tecnica per dare al nostro corpo, avere una percezione dell'altro che si distacca da quella, diciamo, di negatività che il cliente ci trasmette. Quindi arriviamo dal nostro cliente antipatico e anziché farci un discorso prima e dirci, prima di entrare, ah eccolo lì, sto andando, questo cliente è uno scocciatore, un pignolo, ha sempre da ridire, entrare, focalizzare la nostra attenzione su un aspetto che ci piace di quel cliente, automaticamente avremo una risposta non verbale che sarà più positiva, anzi sarà totalmente l'opposto di quella che emaniamo quando facciamo un discorso a priori di anticipazione degli eventi, appunto, che è quella di andare a parlare con un interlocutore con il quale non c'è un ottimo feeling. Un altro aspetto importante da valorizzare è quella della realizzazione del progetto, del progetto finito. L'architetto chiaramente ha una visione diversa da quella che ha il cliente, riesce magari ad immaginare, a comprendere, ad avere un quadro definitivo di quello che sarà il progetto finito, non è detto che il cliente, anche lui, abbia questa visione finale. Quindi è importante poter valorizzare questo aspetto finale con termini come, ad esempio, provi ad immaginare quando il progetto sarà finito. Le potrà, e quindi, elencare magari i vantaggi che avrà a disposizione o il benessere di cui potrà godere quando il progetto sarà finito. Questo ti permetterà, appunto, di far, di trasmettere delle sensazioni e di portare l'utente, diciamo, un po', utilizzando questa specie di macchina del futuro, chiamiamola così, in un progetto già realizzato e finito, dove l'interlocutore può vedere, apprezzare e sentire delle sensazioni che altrimenti non avrebbe visto che comunque il progetto di per sé non è ancora stato realizzato. Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che di solito ci sono due categorie di interlocutori, le persone che vogliono un qualcosa, le persone che non vogliono un qualcosa. Quindi immaginiamo di andare da un nostro potenziale cliente e chiedere lei cosa desidera nel progetto, cosa desidera che ci sia assolutamente all'interno del progetto realizzato e la persona, il nostro interlocutore parte con un io non voglio ed elenca una serie di cose che non vuole. Questa è una tipologia di cliente. Un'altra tipologia di cliente è quella che ti dice, appunto, alla domanda cosa desidera all'interno della realizzazione del progetto e ti fa l'elenco io voglio e ti dice quello che vuole. È fondamentale, appunto, comprendere questo aspetto, cioè capire l'interlocutore che si ha di fronte perché l'elencare quello che non vuole il cliente automaticamente non dà l'indicazione di quello che invece il cliente desidera. Se ad esempio il cliente dice io non voglio un bagno stretto non è detto ad esempio che lo voglia largo o se interpretiamo questo non stretto come largo nasce un dubbio di quanto largo, cosa intende lui per stretto. È importante quindi traslare quelle negatività, quell'elenco di negatività in positività per comprendere esattamente cosa il nostro cliente desidera. Siamo giunti in dirittura di arrivo, facciamo quindi un breve riassunto degli argomenti che abbiamo trattato. Innanzitutto abbiamo visto due principi base della comunicazione. Il primo è che non si può non comunicare. Anche un silenzio è un atto comunicativo perché sta comunicando all'interlocutore che noi non stiamo parlando. Il secondo è un'assunzione di responsabilità. Siamo responsabili in prima persona dell'efficacia della nostra comunicazione. L'efficacia di un atto comunicativo sta nella risposta che si ottiene. Abbiamo visto come percepire il mondo che ci circonda si è condizionato da tre fenomeni importanti e cioè la cancellazione, la distorsione e la generalizzazione. Si è parlato dei canali sensoriali, visivo, auditivo e cenestesico e delle sub modalità. Abbiamo parlato dell'importanza di comprendere il messaggio che si cela dietro il messaggio, introducendo il concetto di rapport, come crearlo e come sfruttarlo al meglio utilizzando la giusta comunicazione non verbale e la giusta linguistica. Tutto questo con un solo scopo e cioè quello di comunicare in modo efficace e persuasivo per instaurare con il proprio cliente il clima ideale all'acquisto. Vi ringrazio per aver seguito questo corso ed auguro a tutti voi buona comunicazione.